Frank. Frank uscì dalla casa nera barcollando. La porta si chiuse sbattendo alle sue spalle e lui crollò a terra, la schiena contro il muro, sopraffatto dal senso di colpa. Per fortuna i catoblèpi erano spariti, o si sarebbe fatto calpestare senza battere ciglio. Non meritava altro. Aveva lasciato Isle addentro, moribonda indifesa, alla mercè di una divinità contadina fuori di cervello. Uccidi quello zotico, strillò Ares nella sua testa. Torna nella legione e combatti contro i greci, ribatte Marte. Cosa ci facciamo qui? Ammazziamo gli zotici, strepitò Ares a sua volta. Silenzio, gridò Frank ad alta voce. Statevi zitti. Due vecchiette con i sacchetti della spesa passarono proprio in quell'istante. Lanciarono a Frank un'occhiata strana, borbottarono qualcosa e continuarono a camminare. Frank fissò a Franto la spada da cavalleria di Hazel che giaceva ai suoi piedi accanto allo zaino. Poteva tornare sul largo 2 a prendere Leo? Forse lui era in grado di aggiustare la biga. Eppure, in qualche modo, sapeva che quello non era un problema di Leo. Era compito suo. Doveva dimostrare il proprio valore. E poi la biga non era rotta, non esattamente. Non aveva guasti meccanici. Le mancava solo un serpente. Frank poteva trasformarsi in pitone. Quella mattina si era svegliato sotto forma di un gigantesco serpente. Forse era un segno degli dèi. Certo, non desiderava trascorrere il resto della vita a far girare la ruota della biga di un contadino. Ma se questo significava salvare Hazel? No, doveva esserci un altro modo. Serpenti. Marte. Suo padre non aveva qualcosa a che fare con i serpenti. L'animale sacro di Marte era il cinghiale, non il serpente. Però Frank era sicuro di aver sentito qualcosa in merito una volta. C'era solo una persona a cui chiedere. Con riluttanza, il semidio aprì la mente alle voci del dio della guerra. «Mi serve un serpente», esordì. «Come faccio?» «Ah! Ah!» gridò Ares. «Sì, il serpente!» «Come quel vigliacco di Cadmo», intervenne Marte. «Lo abbiamo punito per aver ucciso il nostro drago!» Ripresero entrambi a urlare. Frank pensò che gli si sarebbe spaccato il cervello. «Va bene, basta!» Le voci si zittirono. «Cadmo», borbottò Frank. «Cadmo». E gli tornò in mente la storia. Il semidio Cadmo aveva ucciso un drago, figlio di Ares. Ora, Frank non aveva nessuna intenzione di indagare sul perché Ares avesse un drago per figlio. Ma la cosa importante era che per punire Cadmo dalla morte del drago, Ares lo aveva trasformato in un serpente. «E così puoi trasformare i tuoi nemici in serpenti», disse a voce alta. «Ecco di cosa ho bisogno. Devo trovare un nemico. E ho bisogno che tu poi lo trasformi in serpente». «Pensi che farei una cosa del genere per te?» ruggì Ares. «Non hai ancora dimostrato il tuo valore!» «Solo un grande eroe potrebbe chiedere un dono così importante», replicò Marte. «Un eroe come Romolo!» «Troppo Romano!» protestò Ares. «Diomede, piuttosto!» «Moi!» gridò Marte. «Quel codardo cadde per mano di Ercole!» «Orazio Coclite, allora!» suggerì Ares. «Marte tacque». Frank percepì un burbero consenso. «Orazio Coclite», ripeté. «Bene, se è quello che volete vi dimostrerò che valgo quanto lui!» «Che cosa fece di preciso?» Subito, la sua mente fu invasa dalle immagini di un guerriero solitario su un ponte di legno, che affrontava un intero esercito ammassato sulla sponda opposta del Tevere. Frank ricordò la leggenda. Orazio Coclite aveva respinto da solo un'orda di nemici. Sacrificando la vita su quel ponte per impedire agli etruschi di attraversare il Tevere, aveva dato ai compagni il tempo necessario per finire di approntare le difese. «Venezia è invasa come rischiava di essere invasa Roma!» disse Marte. «Tu dovrai ripulirla!» «Distruggili tutti!» aggiunse Ares. «Passali a fil di spada!» Frank ricacciò le voci in un angolino della propria mente, si guardò le mani e si stupì nel vedere che non tremavano. Per la prima volta da giorni aveva le idee chiare. Sapeva esattamente che cosa doveva fare, anche se non sapeva come. C'erano ottime probabilità di morire, ma doveva tentare. La vita di Hazel dipendeva da lui. Si legò la spada della ragazza alla cintura, ritrasformò lo zaino in arco e faraetra e corse verso la piazza in cui aveva combattuto contro i mostri mucca. Il piano si divedeva in tre parti, la fase pericolosa, la fase molto pericolosa e la fase di follia pura e semplice. Frank si fermò al vecchio pozzo di pietra. Non c'erano catoblepi in vista. Sguainò la spada di Hazel e la usò per staccare qualche sampietrino da terra, dissotterrando un grosso groviglio di radici spinose. Le spire della pianta si dispiegarono e sudando i loro fumi verdi e puzzolenti ai piedi di Frank. In lontananza, la sirena dei catoblepi riempì l'aria. Altri mugiti si unirono da più parti. Frank non sapeva come facessero i mostri ad accorgersi che lui stava disotterrando il loro cibo preferito. Forse avevano solo un odorato molto sensibile. Ora doveva agire in fretta. Mozzò un lungo tralcio di radici e se lo legò alle asole della cintura, cercando di ignorare il prurito bruciante alle mani. Ben presto si ritrovò con un vero e proprio lazo di erbacce fetide e luminescenti intorno alla vita. Urrà! Il primo gruppetto di catoblepi fece il proprio pesante ingresso nella piazza. Le bestie mughiarono inferocite. Gli occhi verdi si accesero sotto le criniere. I lunghi musi soffiarono nuvole di gas, come locomotive pelose. Frank incoccò una freccia. Per un attimo si sentì quasi in colpa. Non erano i mostri più pericolosi che avesse mai incontrato. In pratica erano solo di ruminanti velenosi. «Eisel sta morendo per causa loro», rammentò a se stesso. Scagliò la freccia. Il catoblepa più vicino cadde e si ridusse in polvere. Incoccò una seconda freccia, ma il resto della mandria ormai gli era quasi addosso. E altri mostri si stavano riversando nella piazza dalla direzione opposta. Frank si ritrasformò in un leone. Ruggì in tono di sfida e balzò verso l'arco, sopra le teste della seconda mandria in arrivo. I due gruppi di catoblepi cozzarono l'uno contro l'altro, ma si ripresero in fretta e gli corsero dietro. Il semidio si era chiesto se le radici avrebbero conservato il loro odore dopo la trasformazione. Di solito i suoi vestiti e tutti i suoi averi si fondevano con la nuova forma animale, ma sembrava che quelle profumassero ancora come una deliziosa cenetta avvelenata. Ogni volta che superava un catoblepa, il mostro mughiava in ferocito e si univa alla parata dei propri simili, uniti dal motto «Uccidiamo Frank!». Il figlio di Marte imboccò una strada più ampia e si fece largo tra la folla di turisti. Non aveva idea di cosa vedessero i mortali. Un gatto inseguito da un branco di cani, forse? In ogni caso, si sentì inveire contro in una decina di lingue diverse. Con il gelato saltarono per aria. Una donna rovesciò una pila di maschere di carnevale. Un tizio cadde nel canale. Quando si voltò, vide almeno due decine di mostri lanciati al suo inseguimento, ma gliene servivano di più. Gli servivano tutti i mostri di Venezia e doveva anche fare in modo che la rabbia degli inseguitori non sbollisse. Trovò uno spazio libero dalla folla e riprese sembianze umane. Sguainò la pesante spatta di Hazel. Non era mai stata la sua arma preferita, ma era grosso e forte abbastanza da brandirla senza problemi. E fu contento del raggio d'azione che gli consentiva. Sferrò la lama dorata e distrusse il catoblèpa più vicino, lasciando che gli altri gli si raccogliessero di fronte. Cercò di evitare lo sguardo dei mostri, ma percepiva addosso i loro occhi incandescenti. Intuì che, se tutte quelle creature avessero soffiato il loro alito pestilenziale all'unisono, la nube tossica sarebbe bastata a scioglierlo in una pozzanghera. I catoblèpi gli si assieparono intorno, sbattendo l'uno contro l'altro. Frank urlò, volete le mie radici velenose? Venite a prenderle! Si trasformò in un delfino e con un salto si tuffò nel canale, sperando che i mostri non sapessero nuotare. Si mostrarono riluttanti a imitarlo e non poteva piasimarli. Il canale era disgustoso, maleodorante, salato e caldo come una minestra. Ma Frank tenne duro e continuò a nuotare, evitando gondole e motoscafi, fermandosi ogni tanto per cinguettare insulti contro i catoblèpi che lo seguivano lungo i marciapiedi. Quando raggiunse il molo più vicino, riprese sembianze umane, impilzò qualche mostro tanto per aizzarli ancora un poco e riprese a correre. E via di questo passo. Dopo un po', Frank procedeva quasi in automatico. Attirava altri mostri, sparpagliava altri gruppi di turisti e guidava l'ormai massiccio seguito di catoblèpi attraverso i tortuosi vicoli della città. Ogni volta che gli serviva una rapida fuga, si tuffava come delfino nel canale o si trasformava in un'aquila gigante e si librava nel cielo, ma non distanziava mai troppo la mandria inseguitrice. Appena aveva l'impressione che i mostri stessero perdendo interesse nella preda, si fermava in cima a un tetto, incoccava una freccia e abbatteva qualche esemplare al centro della mandria. Scuoteva il lazo di erbacce velenose e insultava l'alito cattivo dei mostri. Poi riprendeva la corsa. Tornò spesso indietro. Perse la strada. Una volta imboccò un vicolo e si imbatté nella coda della sua stessa mandria mostruosa. Avrebbe dovuto sentirsi esausto, eppure trovava la forza di andare avanti, il che era un bene. La parte più difficile. Doveva ancora arrivare. Vide un paio di ponti, ma valutò che non andassero bene. Uno era sopraelevato e coperto. I mostri non ci sarebbero mai passati. Un altro era troppo pieno di turisti. Anche se i catoplepi ignoravano i mortali, il gas velenoso non era salutare per nessuno. Più la mandria cresceva, più i danni ai mortali aumentavano, fra spinte, collisioni e cadute in acqua. Alla fine, Frank vide qualcosa che poteva fare al caso suo. Proprio di fronte a lui, dopo una grande piazza, un ponte di legno attraversava uno dei canali più ampi. Lungo una cinquantina di metri e sorretto da tralicci, ricordava un poco la struttura delle montagne russe di Luna Park. Dall'alto, trasformato in aquila, Frank non vide mostri all'altro capo del ponte. Tutti i catoplepi di Venezia sembravano essersi uniti in quell'unica mandria che lo inseguiva, disperdendo turisti urlanti. Chissà cosa vedevano. Forse un enorme branco di randaggi impazziti. Sul ponte non c'era traffico pedonale. Era perfetto. Frank piombò giù dal cielo e riassunse sembianze umane. Si piazzò al centro del ponte, punto di ingorgo naturale, e gettò a terra l'esca di radici velenose di fronte a sé. «Avanti!» urlò. «Volete sapere di che stoffa è fatto Frank Junk? Fatevi avanti!» Si rese conto di non gridarlo solo ai mostri. Stava dando sfogo a settimane di paura, rabbia e risentimento. Le voci di Marte e Ares gridavano insieme a lui. I mostri caricarono e Frank vide tutto rosso. In seguito non riuscì a ricordare con chiarezza tutti i particolari. Passò a fil di spada un mostro dietro l'altro, tanto da ritrovarsi immerso fino alle caviglie nella polvere gialla. Tutte le volte che veniva sopraffatto e il gas minacciava di soffocarlo, mutava forma, diventò un elefante, un drago, un leone, e ogni trasformazione sembrava purificargli i polmoni, regalandogli una rinnovata energia. Il processo divenne così fluido che lui poteva iniziare un attacco in forma umana con la spada e finirlo dal leone, lacerando con gli artigli il muso di un catoblepa. I mostri scalciavano, avitavano gas velenoso e gli puntavano contro i loro occhi micidiali. Frank avrebbe già dovuto essere morto, calpestato e schiacciato dalla mandria, ma in qualche modo restava in piedi, illeso, e scatenava un uragano di violenza. Non ne ricavava alcun piacere, ma neppure esitava. Trapassò un mostro con la spada e ne decapitò un altro. Si trasformò in drago e spezzò un catoblepa in due tra le fauci, poi si tramutò in elefante e ne calpestò tre in un colpo solo. Continuava a vedere rosso e si rese conto che non erano i suoi occhi a giocargli un brutto tiro. Era lui a brillare, circondato da un'aura sanguigna. Non capì il perché, ma continuò a combattere finché di mostri ne rimase solo uno. Il catoblepa mughiò. Non doveva essere granché intelligente. Diverse centinaia di suoi fratelli erano appena morti, ma non batté la ritirata. Frank gli si parò di fronte con la spada sguainata. Aveva il fiato corto, era fradicio di sudore e cosparso dalla testa ai piedi, di polvere di mostro, ma era illeso. «Marte!» urlò. «Ho dimostrato il mio valore! Adesso ho bisogno di un serpente!» Dubitava che qualcuno avesse mai gridato quelle parole prima di allora. Era una richiesta bizzarra. Non ricevette risposte dal cielo. Per una volta, le voci nella sua mente tacevano. Il catoblepa perse la pazienza. Si scagliò sul semitio senza lasciargli scelta. Frank sferrò un colpo verso l'alto. Non appena la lama toccò il mostro, questi scomparvi in un lampo di luce rosso sangue. Quando Frank non fu più abbagliato, vide un pitone virmano acciambellato ai suoi piedi. «Bravo!» disse una voce familiare. Lì, a pochi metri di distanza, c'era Marte, con un berretto rosso, la mimetica dell'esercito italiano e un fucile d'assalto su una spalla. Il volto era duro spigoloso, gli occhi coperti da occhiali scuri. «Padre!» mormorò Frank. Non riusciva a credere a quello che aveva appena fatto. Si sentì invadere a poco a poco dal terrore. Sarebbe scoppiato piangere, ma capì che non era una buona idea di fronte a Marte. «La paura è un fatto naturale!» La voce del i grandi guerrieri hanno paura. Solo gli stupidi e i folli non la provano. «Ma tu hai affrontato la tua paura, figlio mio! Hai fatto quello che dovevi fare, come Orazio Coclite! Questo era il tuo ponte e tu l'hai difeso!» «Io…» Frank non sapeva cosa dire. Volevo soltanto un serpente. «Ora ce l'hai!» Un accenno di sorriso increspò gli angoli della bocca di Marte. «Il tuo coraggio ha unito le mie due forme, greca e romana, anche se solo per un momento. Vai, salva i tuoi amici! Ma ascoltami bene, Frank. La tua prova più grande deve ancora arrivare. Quando affronterai l'esercito di Gea nell'Epiro, il tuo ruolo di comando…» All'improvviso il dio si piegò in due, reggendosi la testa. La sua forma tremolò. La mimetica si trasformò in una toga, poi in un giubbotto da motociclista e in un paio di jeans. Il fucile diventò prima una spada e poi un lanciarazzi. «Che agonia!» urlò il dio. «Vai, presto!» Frank non fece domande. Nonostante la stanchezza, si trasformò in un'aquila gigante, agguantò il pitone fra gli enormi artigli e si librò in aria. Quando lanciò uno sguardo indietro, una nube atomica in miniatura esplose al centro del ponte emanando anelli di fuoco e due voci, Marte e Ares, gridarono «Nooo!». Frank non sapeva cosa fosse appena successo, ma non aveva il tempo per pensarci. Sorvolò la città, ora del tutto sgombra di mostri, e si diresse verso la casa di Triptolemo. «Ne hai trovato uno!» esclamò il dio dell'agricoltura. Frank lo ignorò. Entrò nella casa nera come un tornado, con il pitone caricato sulle spalle per la coda, come uno stranissimo sacco di babbo natale, e lo lasciò cadere accanto al letto. Si inginocchiò al fianco di Hazel. Era ancora viva, verdognola, scossa dai brividi e con un filo di fiato, ma viva. Quanto a Nico, era sempre una pianta di gran turco. «Curali!» ordinò Frank. «Subito!» Triptolemo incrociò le braccia. «Come faccio a sapere che il serpente funzionerà!» Frank digrignò i denti. Dopo l'esplosione sul ponte, le voci del dio della guerra si erano quietate, ma percepiva comunque tutta la loro duplice e tumultuosa rabbia dentro di sé. Anche fisicamente si sentiva diverso. Mi sembrava che Triptolemo fosse diventato più basso. «Il serpente è un dono di Marte!» ringhiò. «Funzionerà!» Come a dimostrarlo, il pitone birmano strisciò verso la biga e si arrotolò intorno alla ruota destra. L'altro serpente si svegliò. I due rettili si studiarono un poco, unirono i nasi e fecero girare le rispettive ruote all'unisono. La biga si mosse, sbattendo le ali. «Visto!» disse Frank. «Adesso cura i miei amici!» Triptolemo riflettè, dandosi dei colpetti sul mento. «Beh, grazie per il serpente, ma il tuo tono non mi piace molto, se mi dio. Forse ti trasformerò in...» Frank fu più veloce. Si scagliò su Tripp e lo sbatté contro il muro, serrandogli le dita intorno alla gola. «Pensa bene a quello che stai per dire!» intimò con una calma micidiale. «O anziché forgiare la mia spada in vomere, la userò per mozzarti la testa!» Triptolemo deglutì. «Sai, credo che curerò i tuoi amici! Giuralo sullo stige! Lo giuro sullo stige!» Frank mollò la presa. Triptolemo si toccò la gola come per assicurarsi che fosse ancora lì. Rivolse a Frank un sorrisetto nervoso, l'oltrepassò senza sfiorarlo e corse nell'altra stanza. «Vado... vado solo a prendere un po' di erbe!» Sotto lo sguardo vigile del semidio, scelse foglie e radici e le pestò in un mortaio, ricavandone una pallina verde e molliccia. Poi si portò al fianco di Hazel e le mise la pallina sotto la lingua. Un attimo dopo, Hazel si raddrizzò con un brivido. Tossì, aprì gli occhi. La sfumatura verdognola della sua pelle scomparve. La ragazza si guardò intorno, confusa, finché non vide Frank. «Cosa...» Lui la stritolò in un abbraccio. «Ora starei meglio, vedrai! Va tutto bene!» Ma... Hazel lo afferrò per le spalle e lo fissò sbigottita. «Frank, che ti è successo?» «Cos'è successo... a me?» replicò il figlio di Marte, imbarazzato. «Io non...» Abbassò lo sguardo e capì a cosa Hazel si riferisse. Non era Triptolemo a essere diventato più basso, ma lui a essere più alto. Non aveva più la pancia e il petto sembrava più robusto. Frank aveva già avuto degli scatti improvvisi nella crescita. Una volta si era svegliato due centimetri più alto rispetto a quando si era messo a letto, ma stavolta era davvero incredibile. Era come se parte del leone e del drago fossero rimasti con lui dopo che era tornato umano. «E... io non... forse posso rimediare?» Hazel rise divertita. «Perché? Stai benissimo!» «Davvero? Cioè, eri bello anche prima? Ma ora sembri più grande e sei più alto, più distinto?» Triptolemo sospirò in tono melodrammatico. «Sì, ma quanto pare hai ricevuto una qualche sorta di benedizione da tuo padre?» «Congratulazioni, eccetera, eccetera...» «Ora, se abbiamo finito, io... non abbiamo finito!» Frank lo fulminò con un'occhiataccia. «Devi curare Nico!» Il dio dell'agricoltura fece spallucce, puntò un dito contro la pianta di Gran Turco e... bam! Nico di Angelo comparve in un'esplosione di barbe di grano. Il figlio di Ade si guardò intorno, confuso. «Ho fatto un incubo assurdo, pieno di popcorn!» Squadro Frank, accigliato. «Perché sei più alto?» «Va tutto bene», lo rassicurò lui. Triptolemo stava per dirci come sopravvivere alla casa di Ade. «Non è vero, Trip?» Il dio le vogliocchi verso il soffitto, come a dire «Perché proprio io, Demetra!» «E va bene!» esclamò. «Quando giungerete nell'epiro, vi sarà offerto un calice da bere!» «Offerto da chi?» domandò Nico. «Non ha importanza!» scattò il dio, innervosito. «Sappiate solo che è pieno di veleno mortale!» Eisel rabbrividì. «Quindi non dovremo berlo!» «Al contrario!» replicò Trip. «Dovrete berlo! Non sarete mai in grado di attraversare il tempio!» «Il veleno vi collega al mondo dei morti!» «Vi permette di scendere e di passare nei livelli più bassi!» «Il segreto per non farsi uccidere dal veleno è...» Un luccichio attraversò gli occhi del dio. «L'orzo!» Frank aggrottò la fronte. «L'orzo?» «Nell'altra stanza, prendete un po' del mio orzo speciale. Usatelo per fare delle tortine e mangiatele prima di entrare nella casa di Ade. L'orzo assorbirà la parte più nociva del veleno. Anche se subirete i suoi effetti, non vi ucciderà!» «Tutto qui?» fece Nico. «Ecate ci ha fatto attraversare mezza Italia, soltanto perché tu potessi dirci di mangiare l'orzo?» «Buona fortuna!» Triptonemo attraversò il locale e saltò a bordo della biga. «Quanto a te, Frank Jung, ti perdono! Hai fegato! Se dovessi mai cambiare idea, la mia offerta è ancora valida! Sarei felicissimo di vederti prendere una laurea in agraria!» «Sì, certo!» borbottò Frank. «Grazie!» Il dio tirò una leva. Le ruote attivate dai serpenti presero a girare. Le ali frullarono. In fondo alla stanza, la serranda del garage si alzò. «Oh, poter viaggiare di nuovo!» gridò Trip. «Quanti paesi ignari reclamano il mio sapere! Insegnerò loro le glorie del terreno dissodato, dell'irrigazione, del fertilizzante!» La biga decollò e in un attimo sfrecciò fuori dalla casa, con Triptolemo che gridava al cielo «Via di qui, miei serpenti! Via!» «Beh, questo incontro è stato parecchio strano», commentò Hazel. «Le glorie del fertilizzante!» Nico si ripulì dagli ultimi residui di barbe di Gran Turco. «Possiamo andarcene adesso?» Hazel posò una mano sulla spalla di Frank. «Sei sicuro di stare bene? Cosa ti ha chiesto di fare, Triptolemo, in cambio delle nostre vite?» Frank si sforzò di non crollare. Si rimproverò di essere così debole. Poteva affrontare un esercito di mostri, ma non appena Hazel si mostrava gentile con lui, provava l'impulso di scoppiare in lacrime. «Quei mostri mucca! I catoblepi che ti hanno avvelenata! Ho dovuto distruggerli!» «Sei stato coraggioso!» disse Nico. «Ce n'erano ancora... quanti? Almeno sei o sette in quella mandria!» «No!» Frank si schiarì la voce. «Ha ucciso tutti i catoblepi di Venezia!» Nico e Hazel lo fissarono in un silenzio sbigottito. Frank temette che non gli credessero o che stessero per scoppiare a ridere. Quanti mostri aveva ucciso su quel ponte? Duecento? Trecento? Ma poi, nel loro sguardo, lesse che gli credevano. Erano figli degli inferi. Forse percepivano la morte e la carneficina di cui lui era stato protagonista? Hazel lo baciò su una guancia e dovette mettersi in punta di piedi per farlo. Aveva uno sguardo incredibilmente triste, come se avesse intuito che qualcosa nell'amico era cambiato, qualcosa di molto più importante dell'altezza. Anche Frank lo sapeva. Non sarebbe mai più stato lo stesso. E non era sicuro che fosse una buona cosa. «Allora», disse Nico, rompendo la tensione. «Qualcuno di voi ha idea di come si è fatto l'orzo?»